E così, dopo 246 giorni di stop, il 26 giugno ha finalmente riaperto a Roma la fermata Repubblica della linea A della Metropolitana, la centralissima stazione che serve via nazionale, una delle strade principali dello shopping. Sollevo per cittadini e turisti, annunciato con soddisfazione dall'amministrazione capitolina. Peccato che resti ancora chiusa la fermata Barberini, immediatamente successiva verso il capolinea Battistini, è bloccata dal 21 marzo, quando una scala mobile si accartocciò. I viaggiatori però devono capirlo da soli, perché le indicazioni luminose non lo annunciano, anche se registrano la perenne rottura degli ascensori di molte stazioni. Quindi per andare per esempio a Fontana di Trevio o a Via del Tritone bisogna scendere alla fermata Spagna, che pur era stata chiusa il 23 marzo, ma è stata riaperta il 7 maggio. È l'odissea del centro storico, turisti e cittadini continuano ad armarsi di pazienza.